Venite a teatro con un'unica ansia, quella di divertirvi e ci sono degli autori che pagate e questo è molto giusto, ma oggi il poeta vi tende un agguato poiché desidera, aspira a commuovere i vostri cuori mostrandovi le cose che non volete vedere, urlandovi le semplicissime verità che non volete sentire. Grazie a tutti. Ed ecco come è cominciato tutto. Con la polvere sembrava che sul paese ci fosse una polvere che impediva agli uni di vedere quello che facevano gli altri. Se soltanto il governo avessi consegnato le armi al popolo ma non erano lì a Madrid impauriti, indecisi, mandando dei boletini e radio dicendo che era tutto sotto controllo. con due spazio. E l'occazione. Però aveva un sukiato lo stesorante. E il gentio rompia le ventano a le cinque di la tarda, a le cinque in punto di la tarda. Che terribile cinque di la tarda. Erano le cinque in tutti i relochi. Erano le cinque in sombra della tarda.